Se è vero che esiste un potere, questo potere è solo quello dello Stato, delle sue istituzioni e delle leggi. Non possiamo oltre delegare questo potere né ai prevaricatori, né ai prepotenti, né ai disonesti. Il barbaro assassino del generale dalla chiesa e della sua giovane moglie non soltanto ha suscitato in tutto il paese profonda commozione, ma ha posto in drammatica evidenza la gravità del fenomeno mafioso e delle sue probabili connessioni con il terrorismo. Ci si è resi conto, come ha detto il presidente Pertini, che la sfida allo Stato democratico è giunta a un livello non più tollerabile. Sembrano infine ritrovare animo e forza di convinzione quelle parole che dalla chiesa pronunciò nel corso di un'intervista appena qualche settimana fa. Non chiedo leggi speciali, disse dalla chiesa, chiedo solo chiarezza. Chiunque pensasse di combattere la mafia nel solo pascolo palermitano e non nel resto d'Italia non farebbe che perdere tempo. La strage di Via Carini fu un'azione mafiosa in cui il 3 settembre 1982 nella palermitana via Isidoro Carini morirono il prefetto di Palermo e generale dei Carabinieri Carlo Alberto dalla Chiesa, la moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente di scorta Domenico Russo. Intorno alle ore 21 il prefetto uscì da Villa Vitaker, sede della prefettura, a bordo di un'auto bianchi a 112 becce guidata dalla moglie. L'auto era seguita da un'alfetta guidata dall'agente di scorta Domenico Russo a cui si affiancò una motocicletta a onda di grossa cilindrata e Russo fu colpito con un fucile d'assalto AK-47. Contemporaneamente una BMW 518 raggiunse la A112 Antonino Madoni aprì violentemente il fugo contro il parabrezza. Dalla chiesa la moglie rimase ruccisi da 30 pallottole. L'auto del prefetto sbandò andò a sbattere contro il bagagliaio di una Fiat Ritmo Ivi parcheggiata. Una seconda vettura con a bordo Francesco Paola Anselmo e Giuseppe Giacomo Gambino seguiva l'auto del prefetto, pronta a intervenire per bloccare l'eventuale reazione dell'agente di scorta, che non ci fu. Pino Greco scese dalla motocicletta e girando attorno all'A112 gripellata dagli spari controllò l'esito mortale dell'agguato. Subito dopo l'auto e la motocicletta servite per il diritto vennero portate in un luogo isolato e lì date alle fiamme, mentre gli assassini vennero prelevati e portati via da tre auto. Il generale Carlo Alberto Dallacchiesa aveva condotto come capo del nucleo speciale antiterrorismo dei carabinieri a partire dal 1978 la controoffensiva dello Stato sui gruppi avversivi di estrema sinistra, in particolare sulle Brigate Russe. In virtù dei risultati conseguiti venne inviato a Palermo come prefetto della città l'indomani dell'omicidio del sindacalisse uomo politico comunista Piola Torre. Nella provincia di Palermo era in corso la cosiddetta seconda guerra di mafia, nella quale i corlionesi massacrarono i loro nemici per prendere il controllo dell'organizzazione. Nell'estate 1982 si contarono decine di uccisioni di mafiosi. La sera del 3 settembre avvenne il massacro in Vesidoro Carini e il giorno successivo alla redazione palermitana della Sicilia arrivò una chiamata. L'operazione Carlo Alberto si è conclusa. Nel 2013 il boss Salvatore Rina, intercettato durante l'ora d'aria nel carcere milanese di opera, si assunse la paternità del delitto dalla chiesa mentre parlava con il detenuto pugliese Alberto Lorusso. Il giorno dopo l'assassinio, il 4 settembre 1982, nella via Carini comparve un cartello scritto da un anonimo, recante la scritta. Qui è morta la speranza dei palermitani onesti. E' dunque stato arrestato il boss numero uno della mafia in Italia. Matteo Messina Denaro, latitante dal 1993, era considerato il capo di Cosa Nostra ed era nella lista dei ricercati più pericolosi al mondo. I carabinieri lo hanno catturato questa mattina in una clinica privata di Palermo. Vediamo la cronaca con Camilla Iolli e poi ci collegheremo con il nostro corrispondente a Roma. Gli applausi all'esterno della clinica La Maddalena di Palermo, dove questa mattina è stato arrestato Matteo Messina Denaro, boss latitante dal 1993. Il sessantenne si stava sottoponendo a delle terapie.